Studia il fascio di coniche, aperta la tonda, k-1, chiusa la tonda per x al quadrato, meno y al quadrato, più 6x-4 uguale a 0, al variare di k nei reali. Ormai siamo agli sgoccioli, nuovamente stiamo parlando di uno studio di una conica al variare del parametro k, come al solito vediamo i vari casi, vedete che manca, io vi ricordo che l'equazione generale di una conica è questa qua, ax quadro più bxy più cy quadro più d per x più e per y più f uguale a 0, affinché sia una conica non devono essere simultaneamente nulli i tre coefficienti a, b e c, in questo caso non c'è il coefficiente b perché non c'è il termine misto, il termine x, y, ma k-1 è il coefficiente di x quadro, meno 1 è il coefficiente di y quadro. Cominciamo con il primo caso, vi ricordo che tattasi di una circonferenza, ovviamente non possono essere nulli e non lo sono contemporaneamente i coefficienti che moltiplicano x quadro e y quadro, perché y quadro c'è meno 1 davanti, quindi siamo già nell'ipotesi che di sicuro tattasi di una conica, qualora k-1 fosse uguale a meno 1, quindi qualora questi due fossero uguali, che vuol dire eguagliare meno 1 a k-1, il che vuol dire k uguale a 0, perché meno 1 e meno 1 qui se ne andrebbero, per k uguale a 0 parliamo di una circonferenza, ovviamente verifichiamolo perché parlando di meno x quadro, meno y quadro più 6x meno 4 uguale a 0, quindi moltiplicando per meno 1 ecco l'equazione cartesiana, verifichiamo se è verificata la convenzione di esistenza, quindi x quadro più y quadro meno 6x più 4 uguale a 0, è una circonferenza di centro, lo potete vedere, 3, 0, uno può dire ma come hai fatto a vederlo? Ma è molto semplice perché io vi ricordo che il centro della circonferenza è meno a mezzi e meno b mezzi, x quadro più y quadro più ax più by più c uguale a 0 è l'equazione cartesiana di una circonferenza, dove qui a vale meno 6, by non c'è, quindi b è 0 e quindi 6 mezzi è 3, il centro è 3, 0 e il raggio, ve lo ricordo, è la radice quadrata proprio, e qua dentro deve essere verificata la convenzione di esistenza, cioè meno a mezzi al quadrato più meno b mezzi al quadrato meno c deve essere maggiore o al massimo uguale a 0, e quindi vuol dire fare 9 meno 4, 5, quindi 5 è il numero maggiore di 0, quindi abbiamo una circonferenza di centro 3, 0 e il raggio radica al 5, quindi di sicuro per k uguale a 0 trattasi quella conica è una circonferenza, vediamo il caso della parabola, devono essere nulli o il coefficiente che moltiplica x quadro o il coefficiente che moltiplica y quadro, siccome il coefficiente che moltiplica y quadro vale meno 1 e non può essere mai 0, in questo caso trattasi di una parabola sicuramente, ma come potete vedere con asse parallela all'asse delle x, quindi scrivo parabola parallela all'asse delle x, qualora vedete k fosse 1, perché se k è uguale a 1, 1 meno 1, 0 quel termine se ne va, e arriviamo ad un'equazione del tipo 6x uguale, guardate, y quadro più 4, vedete che 6x lo lasciamo lì, portiamo meno y quadro meno 4 a destra, diviniamo per 6, ed ecco l'equazione, tipo x uguale a 1 sesto di y quadro più 4 sesto, quindi più 2 terzi. Parabola avente con cavità rivolta in questo modo, quindi parliamo di una parabola così, il vertice, visto che manca il termine by, è, attenzione, ve lo ricordo, in questo caso c0, quindi v o v, come preferite, è 2 terzi, 0, semiasse positivo delle x, e questa è una parabola appunto, e la concavità, rispetto, è rivolta in questo modo, notiamo che tra l'altro non ci sono intersezioni con l'asse delle y, c'è solamente un'intersezione con l'asse delle x, che poi è il punto del vertice, cioè 2 terzi, 0. Non può esserci il caso, ripeto, di parabola con asse parallela all'asse delle y, del tipo cioè y uguale a x quadro più bx più c, in quanto qui meno 1 non può mai essere 0. Infine, i casi di ellisse e iperbole, per parlare di ellisse e iperbole, ve lo ricordo, nel caso delle ellisse ve lo ricordo, il prodotto dei coefficienti che moltiplicano x quadro più c, in quanto qui deve essere concorde, cioè deve essere maggiore di 0, cioè vuol dire che deve risultare che k meno 1, che moltiplica meno 1, deve essere positivo, che vuol dire 1 meno k positivo, che vuol dire k minore di 1, e ve lo confermo, per k minore di 1, attenzione, per k minore di 1 può verificarsi il caso in cui stiamo parlando di un'ellisse, no? Attenzione che, bisogna anche specificare una cosa però, perché occhio anche alla condizione di realtà, vi ricordate che deve risultare che d al quadrato su 4a più e al quadrato su 4c meno f, ve lo ricordate, maggiore di 0, dove ovviamente a vale k meno 1, b, l'abbiamo detto, non c'è, c vale meno 1, vedete che c'è d che vale 6, non c'è, e non c'è, perché non c'è il termine x, ma c'è f che vale meno 4, che cosa vuol dire? Vuol dire che d quadro, in questo caso, è 36, sarebbe 6 al quadrato, fratto 4 che moltiplica k meno 1, perché k meno 1 è a, dunque e quadro non c'è, quindi questo termine qui non c'è, in questo caso è più 4, tutto questo deve essere maggiore di 0. Andiamo a risolvere questo, quindi faccio notare che 36 quarti è 9, 9 fratto k meno 1 più 4 deve essere maggiore di 0, trattasi di disequazione fratta, che ha come minimo con il multiplo k meno 1, ovviamente k deve essere diverso da 1, quindi qua sotto ci scriviamo k meno 1, e qua abbiamo un 9 più 4 per k è un 4k meno 4, e quindi otteniamo un tutto quanto maggiore di 0, otteniamo che 4k più 5 fratto k meno 1 deve essere maggiore di 0, che cosa significa? Significa che k deve essere maggiore di meno 5 quarti e k deve essere maggiore di 1, quindi vuol dire che andiamo a fare il grafico segno, ovviamente meno 5 quarti è qui, 1 sta qua, attenzione che k maggiore di 1 lo facciamo così, k maggiore di meno 5 quarti lo facciamo così, vedete che la positività c'è per k maggiore di 1 oppure per k meno di meno 5 quarti, ma k maggiore di 1 lo scartiamo perché mi ci dicono che è un'ellisse per k meno di 1, quindi attenzione come in effetti figura qua nel testo, occhio che ovviamente qui ci mettiamo, possiamo metterci anche il caso dell'uguale, in quanto sarebbe il caso eventualmente dell'ellisse del genere, quindi possiamo dire che per k minore di 1 ma anche maggiore o uguale di meno 5 quarti è sicuramente un'ellisse. Nel libro non mi metto il caso della circonferenza che però è verificato per k uguale di 0, trattasi sicuramente di una circonferenza, ripeto dicendo 3,0 è raggio radica al 5, c'è il caso dell'iperbole, beh l'iperbole è lo stesso, aggiungo io se non è zuppa il pan bagnato perché questa volta il prodotto di due coefficienti che moltiplicano il x quadro e il x quadro deve essere negativo, che vuol dire 1 meno k negativo vuol dire in pratica k maggiore di 1, quindi per k maggiore di 1 trattasi di un'iperbole. Questa è la discussione che ripeto nel testo dei autori, MarmaticaBoot.0 dell'autore di Massimo Bergamini, Anati Fone e Grazie a Lavorotti, non mi mette il caso della circonferenza ma che per quanto mi riguarda c'è assolutamente. Ciao! Vedete in grafica il secondo esercizio di questo video e anche l'ultimo di questo capitolo sulle coniche riguardante la scuola, questa volta è stato dal testo Nuova Matematica Colori della Petrini, Leonardo Sasso è l'autore, guardavo se da Petrini non mi ricordavo il nome dell'editore, questa volta è molto simile a quello precedente, stavolta è 1 il coefficiente che modifica x quadro, non c'è bx y quindi b è 0, c è k meno 1 il coefficiente che modifica y quadro, non c'è d perché non c'è x, c'è e che vale meno 2, f vale meno 3. Subito verifichiamo, la domanda è sempre la stessa, io qui verificherei francamente direi che per k primo caso è il caso della circonferenza, il testo non me la mette ma io francamente lo metterei, insomma io francamente lo metterei, eventualmente c'è circonferenza nel caso in cui, vedete, possiamo dirlo, se k meno 1 è uguale a 1, quindi direi che per k uguale 2 c'è la possibilità che si tratti di una circonferenza, perché verrebbe un x quadro, 2 meno 1 è 1, più y quadro, meno 2y, meno 3 è uguale a 0. Vediamo se parliamo di una circonferenza di centro, vedete, in questo caso 0, 1, perché meno a mezzi non c'è 0, meno b mezzi sarebbe 2 mezzi 1, e raggio, vedete, 2, perché sarebbe radice di 1 al quadrato che è 1 meno meno 3, quindi raggio 2, circonferenza per k uguale 2. Poi c'è il caso della parabola, ovviamente non può essere una parabola con un asse di similità parallelo all'asse x, perché vedete che questo coefficiente è diverso da 0, ma può essere una parabola se il coefficiente che modifica y quadro è 0, quindi per k uguale 1, per k uguale 1 trattasi di parabola, parabola, attenzione, con asse parallelo all'asse delle y, lo scrivo asse y, cioè di che equazione? Beh, molto semplice, 2y è uguale a x al quadrato meno 3, come potete vedere, no? Giusto? Direi proprio di sì, e cioè y uguale 1 mezzo x quadro meno 3 mezzi, cioè parabola avendo probabilità così di volta verso l'alto, vertice senz'altro 0c, quindi 0 meno 3 mezzi, che interseca i l'asse delle x nei punti meno radica al 3, 0, radica al 3, 0, basta fare x quadro meno 3 uguale 0, e 0 meno 3 mezzi non è solamente il vertice, ma anche il punto di incontro con l'asse delle y, quindi parabola per k uguale a 1, e ve lo confermo, adesso vediamo che succede, vediamo le ellisse, per essere un'ellisse, l'abbiamo visto poi precedentemente nel primo esercito di questo video, devono essere il prodotto di coefficienti, quindi 1 per k meno 1 deve essere positivo, quindi fatemelo dire, per k maggiore di 1 trattasi sicuramente di un'ellisse, tra l'altro non dimenticherei la condizione di esistenza, che ve lo ricordo, ci dice che di quadro su 4a più e quadro su 4c meno f deve essere maggiore o uguale di 0, vabbè, nel caso delle ellisse del genere, attenzione che qui questo non c'è, perché vedete che non c'è il termine che moltiplica la x, c'è e quadro, quindi 4, ma potete notare che c è k meno 1, quindi 4 che moltiplica k meno 1, più 3, maggiore o uguale di 0, siccome abbiamo 4 quarti che se ne vanno, deve risultare che 1 su k meno 1 più 3 deve essere maggiore o uguale di 0, quindi k meno 1 sotto, abbiamo un 3k meno 3 più 1, cioè, guardate, deve venire che 3k meno 2 diviso k meno 1 deve essere maggiore o uguale di 0, solito grafico segni, no, infatti ho fatto 3 per k fa 3k, 3 per 1 fa meno 3 più 1, ho fatto il minimo con un altro, l'avete capito, vediamo se vale la condizione di esistenza, vi ricordo che siccome k è per definizione strettamente maggiore di 1, quindi è inutile andare a porre il denominatore maggiore di 0, avremmo in pratica che k deve essere maggiore o uguale di 2 terzi, vedete che, ma, vediamo che è positiva per k maggiore o uguale di 2 terzi, che rientra appunto nel caso di k maggiore di 1, quindi non ci sono problemi, k maggiore di 1, quindi per k maggiore di 1 siamo certi che trattasi quella conica di un'ellisse, ma allora, fatemelo dire, se non è zuppa pambagnato, perché il caso 4 è l'ultimo, è il caso dell'iperbole, del genere o no, beh, ovviamente deve risultare che il prodotto di quei coefficienti deve essere negativo, cioè, aggiungo io, k minore di 1, perché poi, ripeto, per k uguale 1 parliamo di una parabola, abbiamo classificato tranquillamente e facilmente anche questa conica, avete visto come questi esercizi sono facilissimi, vi invito a non perdere i prossimi esercizi che trovate nel sito www.ing.it alla sezione geometria analitica, quella che riguarda l'università, perché faremo appunto esercizi, parleremo un po' di teoria, faremo un po' di teoria sulla classificazione delle coniche con appunto discorsi matriciali, quelli un pochino più, diciamo, dettagliati, a quel punto avremo veramente terminato. Io non faccio altro che ringraziare tutti quelli che in questi anni mi hanno accompagnato in questo che è forse il più lungo percorso che ho fatto di spiegazione, perché la spiegazione di queste coniche, che cominciano dalla retta e poi finiscono a, appunto, a questo argomento, ci ha portato via quasi, direi, tre anni della nostra vita, quindi sono sempre momenti da ricordare con grande passione, saluto tutti quelli che hanno commentato sotto, continuate a commentare, ovviamente la priorità è sempre la troverete nel sito www.ing.it alla sezione scuole superiori, anno numero 3, al terzo anno ci sono appunto le coniche, dalla retta fino alle coniche e poi cominciano gli esponenziali e i logaritmi. Vi abbraccio, non perdetevi a partire dal prossimo video in una spiegazione più ampia e più, diciamo, dettagliata delle coniche dove appunto che vengono trattate nei corsi universitari. Ciao!